Poteva capitare a chiunque di noi, Bailey. Ti faremo curare. Verrei scagionata. Ho ucciso due pazienti. No, non lo sapevi. Ti sei lavata scrupolosamente, hai messo i guanti. Come sta, Seth Lepic? È morto. L'infezione aveva formato un ascesso che ha eroso la vena innominata. Mi dispiace tanto. Bailey, come posso... No, adesso vuoi aiutarmi. Dov'eri quando il mio paziente era vivo? Quando potevo aiutarlo? Mi hai esclusa? Mi hai abbandonata? Bailey, io cercavo di proteggerti, nient'altro. No, no. L'ospedale. Tu volevi proteggere l'ospedale. È l'unica cosa che conta per te. Non so perché. Io sia sorpresa. Adele se ne lamentava ogni volta che la vedevo. E io ti difendevo. Inventavo delle scuse da dirle per te. Io ti ho difeso sempre. No, tu eri un alcolista. Operavi i pazienti ubriaco. E io ti ho difeso. Mi aspettavo lo stesso da parte tua. Lo meritavo. Me lo sono guadagnato, ma per te contava solamente... No, no, tu... Non sei quello che credevo.